Il senso è di dichiarare la mia disponibilità a raccogliere in questo momento una sfida molto difficile, quella di rilanciare se possibile in città il Partito Democratico in un momento in cui la politica a tutti i livelli è in grande crisi e in cui c'è una grande fuga dalla politica. Quindi la mia idea è dichiarare questa disponibilità a dire che la politica è qualcosa di importante e che non è più il momento di starsene fuori, criticare, ma provare a sporcarsi le mani, mettersi in gioco e dare la propria disponibilità per quello che sarò capace di fare per dare una mano al partito ma soprattutto alla città. Con l'eventualità in cui lei sia eletto segretario, quali saranno i suoi rapporti con l'Aggiunta di Girolamo? L'Aggiunta di Girolamo è un'espressione di questo partito, quindi sarà un rapporto di collaborazione fattiva, sarà un rapporto di stimolo e per tutto il tempo che durerà la Giunta credo che dovremo fare tutto insieme un lavoro per migliorare le condizioni attuali della città. Ecco, qualora lei fosse eletto sarà anche il candidato del Partito Democratico alla carica di sindaco? Questo non è un argomento all'ordine del giorno. Io sono i candidati a fare il segretario del partito se la maggioranza degli iscritti lo vorranno. dopodiché quando il partito dovrà decidere i passaggi successivi, futuri, ci sarà l'intero partito che sarà in grado di decidere e scegliere. Che valutazione dà dello stato di salute del PD a termine in questa fase? Beh, se dovessi dire una metafora del mio mestiere, diciamo che è in rianimazione. C'è un'area di riferimento al partito al quale lei fa riferimento? Guardate, io ho una storia anche politica che voi conoscete, sono stato parlamentare dell'Ulivo, quella è la mia estrazione, non ho mai avuto tessere in partito tranne quella dell'Ulivo, la prima che ho, tre giorni fa del Partito Democratico, in cui credo in questo Partito Democratico, credo. Vorrei però essere considerato un eventuale segretario di tutto il partito, questo mi interessa. Io non ho un'area di riferimento precisa, ma io credo che sia un momento in cui tutto il partito si debba mettere in discussione e si debba mettere a lavorare per rilanciare l'immagine stessa del partito. Come si fa ad aginare i populismi, le chiedo? Questo è il problema vero e ne parleremo in conferenza stampa, c'è un'unica parola che è quella della competenza e del ragionamento. I populismi si esauriscono in un tweet, si esauriscono in uno slogan. Ecco, dobbiamo prendere il tempo di ragionare, aiutare la gente a ragionare, a ragionare noi e provare a risolvere i problemi. Grandi problemi richiedono difficili soluzioni, non ci sono soluzioni facili ai grandi problemi e lo sloganismo dei populisti non porta da nessuna parte. Grazie. Grazie.